Paesaggio da cartolina, sole, caldo, ma per i ragazzi di Diego Simeone le colline sopra Segovia nella Spagna centrale sono solo la sede del ritiro in vista della nuova stagione della Liga. Tra pochi giorni l'Atletico Madrid partirà per un tour promozionale in Centro e Sud America, con partite previste in Venezuela, Colombia e Costa Rica. Appena finito il tour, primo appuntamento con la storia per i Colcioneros, la Supercoppa Europea contro i campioni d'Europa del Chelsea. A rassicurare Simeone la firma dell'estensione dei contratti col terzino Filippe Luiz e col centrocampista Cocchi. Al ritiro dei Biancorossi una faccia conosciuta per i tifosi italiani, l'ex interista Embre, arrivato a parametro zero dal Fenerbace. Usato garantito ce lo dirà l'impatto con la sciglia difesa di Di Matteo.